Enrico Statuto, un esordio questa sera, un attimo di paura per una piccola distorsione, una lieve distorsione alla caviglia per Simone Tiberti, però insomma l'emozione di toccare un paio di palloni interessanti e di chiudere anche un set. Sì, è stato sicuramente bello poter entrare oggi, anche se un po' tutti siamo spaventati perché siamo quasi arrivati alla fine e vedere ancora come l'anno scorso Tiberti, ben fortunato, sarebbe stata un po' una pecca, però comunque io ero pronto per entrare e spero di aver dato il contributo giusto alla squadra in sostanza. Una stagione comunque di sacrificio, allenandosi ogni giorno, fai tutto quello che fanno i titolari, è tipico del secondo palleggiatore, insomma quasi sempre, però una squadra che sta facendo un'annata fantastica e che è vicina ad un grande obiettivo che si chiama Pool A e quindi salvezza matematica. Sì, beh sicuramente volevamo dimostrare che come l'anno scorso prima dell'infortunio di Tiberti eravamo in grado di raggiungere questo obiettivo e speriamo con le prossime partite di confermare questo grande risultato in sostanza.